Il Parlamento nazionale approva il progetto di responsabilità del Presidente della Repubblica. Il Parlamento nazionale che interlegisilatura, leggo si plenaria, il progetto di responsabilità del Presidente della Repubblica del Presidente della Repubblica. Il Parlamento nazionale Mariana Angelina Sarmento-Rattateng, il progetto di responsabilità del Presidente della Repubblica, Francesco Guterres Luolo atto promulga antes mandato termine e allora non si non recensi fulano maionè. In una quinta legislatura del Parlamento Nacional con il governo in una consenso dedicato a curarlo a reforma del settore di justicia. Então, parto in un'ultimo si, reforma del settore di justicia ma raro vale in alterazione della lezione di Sirenebbe dopo che entra in vigore maggiore di 10 anni ma di dare la dunia o una relevancia la dunia a atualizzazione o mudanza o dinamica politica o iloromia quindi le Sirene sujeita a alterazione e poi c'è la re le Sirene sujeita a alterazione E a discussão final global deputada CNRT Carmelita Moniz questiona caratter russi prozetto leine nel Parlamento Nacional discuti non approvo orzenti comparo le Sirene nel tamo e a comissão che le rona ma i besedau discuti Fátima Pereira Giamen Giamen